a parte proprio così, in questa maniera, tuttomercato.it No, no, scusa, calciomercatotutomercato.it Beh, guarda, io penso che in tutte le competizioni ne vinca una sola, ecco, quindi se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono, allora sarebbe un disastro. Io penso che negli ultimi anni quindi tutti quanti, tutte le altre squadre hanno fallito praticamente ogni stagione. Invece penso che l'Inter anche stasera abbia dimostrato di aver accorciato molto le distanze sulla Juventus sotto tutti i punti di vista. Io penso che questo ci deve dare forza, ci deve dare fede nel continuare a lavorare, a fare quello che stiamo facendo. poi le altre considerazioni giusto che le facciate voi che lavorate. Quello che serve è lavorare, lavorare negli anni e cercare di migliorare anno per anno la squadra. Quindi questo bisogna cercare di fare. Io penso che nel giro di un anno e mezzo si siano fatti dei passi importanti, si siano fatti dei progressi importanti sotto tutti i punti di vista. Anche perché ci siamo andati a vedere, a riguardare un po' il gap che c'era tra l'Inter e la Juventus a livello di punti, a livello di tutto, era un gap importante. Adesso, nonostante le nostre difficoltà, io penso che questo gap sia diminuito. Nelle due partite anche in Coppa Italia l'abbiamo dimostrato, anche stasera l'abbiamo dimostrato. Per quello che riguarda Lautaro e Lukaku, hanno fatto la loro partita, hanno dato tutto per l'Inter, hanno dato tutto per la squadra. Lavorano, lavorano e cercano di crescere. Lautaro non dimentichiamo che ha solo 22 anni, è la seconda stagione che gioca con continuità. non è un giocatore finito, è un giocatore che sta lavorando, che ha grandi margini di miglioramento, grandi potenzialità e lo stesso riguarda per Romelu. Romelu è un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e anche lui deve continuare a lavorare, migliorare e cercare di dare sempre di più come fanno tutti quanti. Anche in Champions siamo partiti con l'obiettivo sempre massimo perché l'ambizione deve essere alta. Poi la realtà è un'altra cosa, la realtà dice che siamo usciti dalla Champions e adesso come l'anno scorso siamo usciti in semifinale in Coppa Italia contro la squadra che comunque è stata protagonista indiscussa negli ultimi nove anni in Italia. Penso che avremmo meritato qualcosa in più, però. Adesso ci concentriamo sul campionato sapendo che sarà dura, però anche le altre sanno che l'Inter è una squadra tosta e stasera penso che l'abbia dimostrato in tutto e per tutto. Ma per quello che riguarda il gap con l'Iventus, ripeto, noi abbiamo appena iniziato, quindi un anno e mezzo che io sono all'Inter e sto lavorando e penso che i passi in avanti si siano fatti sotto tutti i punti di vista. Ha detto questo, per i miracoli ci stiamo attrezzando, si dice a casa mia. Per quello che riguarda il post partita, ripeto, non ho né voglia né piacere a commentare niente. Penso che in tutte le cose ci voglia sempre educazione.